intanto benvenuti a tutti grazie grazie di aver accolto questo invito siamo in tanti 36 persone collegate per il gioco quindi per me è stata una bella sorpresa per me e per tutto l'ufficio abbiamo accolto questa richiesta che è arrivata dal territorio di Pordenone da Lucia e anche da Monica Lucia è la consulente di finanza etica del territorio e Monica la coordinatrice del GIT che arriverà fra poco e abbiamo deciso di allargare appunto perché trovare tante persone per giocare tutte su Pordenone non ce la facevamo nel momento in cui ho aperto a tutti invece c'è stata una buona risposta l'obiettivo di questa oretta e mezza al massimo che passiamo assieme è quella di sperimentare il gioco delle banche online c'è chi di voi è un super esperto del gioco e chi invece non ha mai giocato quindi chiediamo a chi conosce bene il gioco di giocare cioè di aiutare e se ok Ruggero signoretti tranquillo poi ti dico dove vai e cosa fai intanto parlo e poi ti indirizziamo e dicevo per chi di voi conosce il gioco e fa e deve impersonare la banca giocate vabbè la banca fa la banca dalle informazioni che deve dare per chi deve fare la famiglia investite investite bene cioè investite in modo che il gioco faccia quello che deve fare e voi sapete quello che il gioco deve fare non dico altro ok allora per chi non ha mai giocato si tratta di un gioco che nasce come un gioco da fare in presenza è un gioco di ruolo dove dividiamo solitamente il gruppo classe lo facciamo di solito nelle classi superiori nelle quarte e nelle quinte ma lo stiamo facendo l'abbiamo fatto ultimamente anche nelle prime con Lorenzo che poi vi presento che ci aiuterà stasera a gestire il gioco e quindi generalmente nelle scuole superiori e appunto lo proponiamo al gruppo classe la classe viene suddivisa in due in due sottogruppi un gruppo fanno le famiglie un gruppo fanno le impersonificano le banche in presenza appunto ogni gruppo banche ogni persona fa una banca le banche sono otto come stasera le famiglie solitamente sono otto lo stesso e anche meno a volte e sono famiglie formate da due tre allievi a seconda di quanto grandi sono anche le classi alle famiglie vengono consegnati dei soldi tipo monopoli vediamo se riesco a farvi vedere sono questi quindi sono banconote di carta che rappresentano 100 euro vengono dati 10 banconote ad ogni famiglia e viene detto loro che la famiglia deve investire in banca una banconota da 100 euro per ogni turno di gioco i turni al massimo sono 10 e cosa fa la famiglia va in banca e investe e adesso non vado oltre rispetto alla spiegazione perché è quello che facciamo con i ragazzi noi ragazzi diciamo appunto a chi fa la famiglia diciamo avete questi soldi queste sono le vostre banche a disposizione andate investite i vostri soldi e vedete che cosa succede questo diciamo anche a voi stasera perché vogliamo farvi giocare poi parliamo dopo di quello che è successo alle banche invece diamo delle istruzioni specifiche a chi di voi stasera rappresenta la banca ha ricevuto delle istruzioni che le famiglie non hanno ricevuto ok e c'è scritto che cosa fare nei diversi nei diversi turni allora la sperimentazione online è una sperimentazione che ci siamo inventati per il covid e l'abbiamo sperimentato sia metà classe online metà in presenza e in questo caso vuol dire che chi è a casa è online fa la banca e chi è in presenza fa le famiglie e perché in quel modo lì riusciamo ad avere famiglie fatte da due persone che si parlano e decidono dove andare ad investire nel caso in cui invece ci siano classi totalmente online allora facciamo come stiamo facendo questa sera assegniamo dei ruoli e li assegniamo prima e poi e poi e poi giochiamo e questa sera giocheremo su cinque turni di gioco e non avete appunto i soldi fisici quindi è tutto virtuale anche il vostro investimento e cos'altro da dire lorenzo vi presento lorenzo landillo gitto di venezia e ex gitto di ferrara ora gitto di venezia chiara molto orgogliosa e manuela anche del gitto di venezia ci scrive useremo bitcoin ecco aiuto iniziamo il gioco non affronta il tema dei bitcoin ma ci siamo resi conto che dobbiamo aggiornare il gioco perché è un argomento e lo chiedono sempre di più e i ragazzi chiedono tantissimo e ecco rispetto a questo vi dico che si sta pensando anche a degli aggiornamenti speriamo che si possano fare del gioco colgo l'occasione anche per dire che tra il gruppo c'è simona berlese che ha collaborato proprio anche alla creazione del del gioco a suo tempo per cui grazie simona sei qua ma aspettiamo anche molti commenti anche possibile appunto come si può dire migliori ecco da fare anche in questa versione online vai lorenzo se devi dire qualcosa io finisco di fare i gruppi no in realtà no non ho cose da dire o gli diciamo dei punti qualità della vita subito o come vuoi se vuoi facciamo la spiegazione adesso tutti assieme allora come abbiamo detto è un gioco di ruolo per cui le famiglie dovranno scegliere ogni turno come investire visto che siamo tutti collegati ma si chiameremo le famiglie e gli chiederemo di dire il il nome della banca in cui hanno scelto di investire e poi più avanti nei turni chiameremo le banche e diremo che cosa devono rivelare alle famiglie comunque parleremo abbastanza noi molto più rispetto quando siamo in classe perché è ovviamente più complicato dirigere il tutto c'è la parte degli investimenti ma c'è un altro elemento fondamentale all'interno del gioco che sono i punti qualità della vita noi partiamo tutti con 200 punti qualità della vita che rappresentano quanto bene si sta in queste nostre due città immaginarie e betropolis e brasilia a 200 punti qualità della vita è il migliore dei mondi possibile quindi qualsiasi cosa positiva ci si possa immaginare è presente ovviamente i punti varieranno durante il gioco e l'obiettivo come dire è innanzitutto di non farli arrivare a zero perché nel momento in cui i punti arrivano a zero questo mondo finisce qualcuno preme un grande pulsante rosso o non lo so invadono un paese dell'est a caso e finiamo proprio di giocare e ovviamente allo stesso tempo cercare di mantenerli più alti possibile perché con più punti qualità della vita si sta meglio i punti qualità della vita possono scendere possono anche salire possono anche andare oltre i 200 in realtà la chiave è un po capire come e perché questi punti si muovono prima di arrivare a zero e basta ok abbiamo le stanze abbiamo sì c'è l'investimento per turno è fisso sempre 100 giusto sì sì si deve investire 100 una banconota una sola e obbligatoriamente una ogni turno per le banche come facciamo noi famiglie vederle tutte le banche allora adesso quando ci dividiamo in adesso ci dividiamo in due gruppi e quindi è un po più facile perché siamo in meno saremo una ventina per ogni gruppo e e lì rifacciamo l'appello e diciamo chi è famiglia e chi è e chi è banca e allora chiedo tra i presenti se c'è cristiana marangon uno due tre non c'è ok quindi lorenzo ti manca solo una persona che è una banca però ah benissimo ok potrebbe che banca è è bank invest se vuoi mando al volo le istruzioni a di rene che automaticamente diventa bank invest ok irene sei pronta e me le mandi per mail te le mando per mail sarà una bellissima mail indirizzata a cristiana ma c'è scritto tutto la prima volta passo dall'altra parte oddio ansia da prestazione ok a posto allora pronti via vi mando nella stanza metropolis poi vi richiamerò io fra una mezz'oretta e gli altri restano invece con me che sono brasilia via allora siamo rimasti qui gestiremo questa stanza io e simona adesso noi siamo il gruppo brasilia e siamo in pochi però secondo me manca qualcuno quindi a questo punto faccio un attimo l'appello delle banche e vedo allora gabriele bollini ok che è international bank giuseppe zucchi c'era e dove è eccolo lì banca nazionale simona berlese c'è ed è casse unite eccola lì giorgio rossi c'è ed è punto risparmio ok ruggero signoretti dov'è eccolo lì banca invest perfetto alessandro piergentili c'è l'avevo visto sì cassa del lavoro ok giancarlo vivone banca noi eccola lì giancarlo e giuditta peliti ce l'abbiamo l'ho vista credito sociale benissimo e gli altri sono tutte famiglie ok allora e riassumo adesso quello che che vi chiediamo al primo turno i nomi delle banche li ho appena riassunti io però vi chiedo così facciamo una prova a microfono e a tutte le banche di presentarsi dire il proprio nome il nome della banca al primo turno la banca dice dice solo questo dopodiché ogni famiglia deve decidere in quale banca investire apre il microfono e dice il nome della banca in cui investe poi vedremo che cosa che cosa che cosa è successo allora partiamo con una presentazione delle banche va vi chiamo per nome voi dite la banca gabriele e international bank giuseppe banca nazionale simona scusate casse unite ok giorgio punto risparmio ruggero bank invest alessandro cassa del lavoro gian carlo banca noi e giuditta credito sociale ok adesso le famiglie una alla volta lo stesso aprono il microfono dicono chi sono e come famiglia e perché così la collega simona riesce a capire come distribuire il guadagno che che avete e quindi dite il nome della vostra famiglia e in quale banca investite vi chiamo io così famiglia rossi il microfono spento mario no l'acceso ma non si sente vai proviamo così mario della famiglia rossi di brasilia e ho deciso di investire il credito sociale ok verdi sono giuseppe angilella della famiglia verdi e anche io ho deciso di investire nel credito sociale ok brown una sera sono mosca e investo nella cassa del lavoro e famiglia brown si ok famiglia blu allora lucia famiglia blu investo punto risparmio gialli fabiana buonasera a tutti e investo in casse unite fabiana famiglia gialli casse unite ci sei simona vero ok viola famiglia viola alberto veronesi ce l'abbiamo vedete non c'è ok quindi viola non li abbiamo famiglia bianchi famiglia bianchi banca noi banca noi ok famiglia arancio io sono daniele benzò della famiglia arancio e vorrei investire su credito sociale bene famiglia rosa marino famiglia rosa credito sociale famiglia azzurri non c'è ok allora noi ci fermiamo qui allora simona se puoi condividere solo la parte che riguarda i punti qualità della vita ok allora questo primo turno abbiamo guadagnato 14 punti qualità della vita allora per chi non ha mai giocato il gioco parte da 200 punti qualità della vita qui siamo a 200 punti perché abbiamo tante famiglie nel caso in cui si giochi con un gruppo un po più piccolo di 20 persone dove le famiglie sono cinque ad esempio otto banche cinque famiglie invece qui siamo a 10 famiglie e comunque se si è poche famiglie si mettono 100 punti qualità della vita se ci sono tante famiglie si aumentano i punti qualità della vita la qualità della vita sta proprio ad intendiamo la qualità della vita della comunità quindi i nostri investimenti hanno inciso positivamente sulla qualità della vita della comunità nota a margine solitamente con i ragazzi non funziona in questa maniera ma investono molto in altre banche bisogna dirlo e quindi il risultato è ben diverso quindi vi invito per vedere che cosa succede a investire anche in altre banche ora andiamo con il secondo turno e ok grazie Simona Fabio è di qua e non riesco più a mandarlo di là come faccio a mandarti di là? Fabio accendi il microfono io non lo so come fai a mandarmi di là non l'uso mai Zoom mi dice che sei di qua come faccio? mi dice non sei più abilitato oh mio Dio fai una cosa Fabio esci e rientra completamente vediamo se in questo modo riesco scusate ma è la prima volta che giochiamo su due gruppi ok noi proviamo ad iniziare il secondo turno è arrivato anche Marco Gallicani ma lui fa l'osservatore il secondo turno ok io chiamo ad una le banche in cui le famiglie hanno investito anzi le chiama Simona che sa dove hanno investito perché queste banche possano dire il guadagno dell'investimento quindi io mi ricordo sicuramente che qualcuno di voi più di qualcuno di voi ha investito in credito sociale ok quindi credito sociale Giuditta apri il tuo microfono e di il tuo investimento che ha investito da me ha guadagnato un euro ok poi abbiamo abbiamo sicuramente una famiglia che ha investito nella banca noi che ha investito in banca noi ha guadagnato due euro perfetto abbiamo anche una famiglia che ha investito nella banca cassa del lavoro nella cassa del lavoro che ha investito in cassa del lavoro ha guadagnato tre euro perfetto perfetto abbiamo il punto risparmio che ha investito nel punto risparmio ha guadagnato sei euro e abbiamo le casse unite che ha investito in cassa del lavoro che ha investito in cassa del lavoro ha guadagnato sette euro ok non ne abbiamo bene andiamo allora con il secondo turno le famiglie decidono dove investire quindi famiglia Rossi vado col giro di prima dove investi? bene vedendo i risultati investo in cassa del lavoro ok famiglia Verdi eccomi qua questa volta investo in Bank Invest Bank Invest famiglia Brown International Bank International Bank famiglia Blu Banca Nazionale Banca Nazionale Banca Nazionale famiglia Gialli Punto Risparmio Punto Risparmio e famiglia Bianchi Cassa del lavoro Cassa del lavoro ok famiglia Arancio adesso allora in Punto Risparmio in Punto Risparmio in Punto Risparmio e famiglia Rosa Casse Unite Casse Unite ok bene vai Simona condivido condividi ok vedete sì ok allora in questo giro abbiamo perso 45 punti qualità della vita ok adesso siamo a 169 non più a 214 in un solo turno abbiamo perso 45 punti cosa vuol dire che la qualità della vita sta peggiorando in maniera drastica in maniera velocissima quindi l'aria non è più molto respirabile è parecchio inquinata i servizi iniziano anche ad avere qualche problema gli ospedali funzionano un po' meno bene le scuole un po' meno bene le strade iniziano a essere un po' tutte rotte e quindi in un solo turno 45 punti qualità della vita è una faccenda un po' triste quindi attenzione a come investiamo prima di iniziare il terzo turno introduciamo però come in tutti i buoni giochi che si rispettano un imprevisto avete presente il monopoli che ci sono le probabilità e gli imprevisti anche qui abbiamo gli imprevisti e quindi vi leggo il nostro imprevisto per oggi viene sancito un trattato internazionale per la lotta all'evasione fiscale tutti i paesi del mondo ne sono coinvolti gli investitori di International Bank per questo turno riducono il loro interesse di 5 euro e il valore dei punti qualità della vita aumenta di 10 punti quindi in realtà rispetto alla situazione che abbiamo appena visto che aveva investito in International Bank perde 5 punti di guadagno e aumenta di 10 punti invece la qualità della vita quindi Simona devi andare a modificare ok ok ora abbiamo fatto anche l'imprevisto quindi adesso possiamo nominare e chiamare le banche che prima non hanno parlato e su cui però le famiglie hanno investito quindi chiamo International Bank per dire il suo guadagno il guadagno è stato di 10 euro ben 10 euro non uno di meno ok Banca Nazionale si ha investito in Banca Nazionale ha ricevuto un guadagno di 8 euro 8 euro Bank Invest si ha investito in Bank Invest ha un guadagno di 4 euro di 4 euro ok bene adesso le famiglie possono decidere dove investire al prossimo turno ci sarà la possibilità di dare qualche informazione ok vi ricordo che giochiamo su 5 turni e e quindi ricominciamo il nostro giro e chiamiamo famiglia Rossi eccoci qua allora noi per questa volta decidiamo la banca noi banca noi ok famiglia Verdi eccomi qua noi torniamo al credito sociale famiglia Brown International Bank di nuovo famiglia Blu scusa Daniela è adesso che International Bank ha l'imprevisto o nel turno precedente basta è quello prima famiglia blu cassa del lavoro cassa del lavoro ok famiglia gialla gialli banca noi banca noi famiglia bianchi banca nazionale banca nazionale famiglia arancio a questo punto torno al credito sociale ok famiglia rosa banca invest banca invest ok allora vai Simona allora avete visto il secondo turno in realtà c'è stato un cambiamento legato all'imprevisto che avevamo letto comunque tra il secondo e il terzo turno abbiamo perso ancora un punto qualità della vita sicuramente la situazione è meno drammatica perché comunque la perdita si è quantomeno bloccata siamo ancora nella situazione di prima quindi l'aria non è è inquinata gli ospedali barcollano le scuole lo stesso le strade sono un po' rotte ma non è quantomeno non è peggiorata la situazione bene ora abbiamo gli ultimi due turni il quarto e il quinto turno adesso prima che le famiglie investano nel quarto turno gli altri 100 euro chiediamo alle banche di dare delle notizie su come la banca investe il denaro dei suoi clienti e vi chiediamo di seguire le istruzioni che avete ricevuto e anche di usare un po' di fantasia se vi va quindi vi chiamo io international bank buonasera noi finanziamo operazioni commerciali immobiliari in questo periodo siamo nella sede centrale alle isole Caim che è un vero paradiso e siamo certi che abbiamo studiato tutto il cambiamento climatico e non saremo certi delle isole che finiscono sotto perché noi abbiamo aderito al fatto della finanza sostenibile del 10 marzo firmato dall'Unione Europea del 10 marzo anche se siamo in Brasile però insomma come dire abbiamo assunto come riferimento nostro i famosi obiettivi gold dell'azienda 20 e 30 e cerchiamo di far rendere al massimo gli investimenti in modo sostenibile grazie Gabriele Banca Nazionale la nostra banca opera praticamente sugli hedge fund quindi noi accettiamo investimenti rischiosi più rischiose di quelle che adottano i normali fondi di investimento e insomma noi abbiamo un motto che chi non risica non rosica quindi vi invitiamo a investire avere un po' di coraggio e investire anche in questi momenti un po' particolari bene grazie Giuseppe casse unite ci sono allora le casse unite investono in derivati e qualcuno di voi l'ha già sentito abbiamo avuto dei momenti un po' difficili nel 2008 ma ci siamo ampiamente ripresi i derivati sono un prodotto che tira il mercato e quindi guadagnate bene se investite con noi grazie Simona punto risparmio buonasera la nostra è una banca che investe in in un ambito che è continuamente in espansione abbiamo governi nuovi a cui forniamo le nostre armi abbiamo gruppi abbiamo grandi investitori internazionali il nostro ripeto è un settore in continua crescita gli stati come sapete bene hanno previsto di aumentare in Europa le loro spese in armi al 2% e quindi per noi questo è un mercato che sarà amplissimo in cui crediamo e riteniamo di poter guadagnare molto di più di quello che abbiamo guadagnato fino ad oggi quindi investite con noi perché le armi prima di tutto sono una sicurezza per gli stati è una sicurezza per le persone perché avere delle armi è uno strumento in cui voi potete difendervi nel caso veniate assaliti o nel caso vi troviate dei malintenzionati per strada quindi investite da noi perché è un investimento sicuro ed è in crescita grazie Giorgio e Bank Invest salve a tutti in questi anni la finanza ci ha fatto vedere qualsiasi cosa speculazioni cose si investe sul nulla si investe il denaro investito sul denaro che produce denaro Bank Invest invece è una banca dai valori più tradizionali noi crediamo che sia importante investire nell'economia reale e in questo momento neanche a dirvi ovviamente in cui l'energia è forse l'argomento principale scatena guerre conflitti eccetera noi investiamo nella prima forma di energia grazie grazie Ruggero Cassa del Lavoro Cassa del Lavoro ha scelto di investire nelle energie da fonti rinnovabili e sappiamo bene grazie alla sensibilizzazione portata avanti da Greta Thunberg e da tutti gli attivisti che questo è un problema importante che ovviamente può in qualche modo compromettere se non riusciamo ovviamente a sviluppare una protezione del nostro ambiente dei problemi tali che nessun altro investimento sarà più possibile poi in futuro e abbiamo dei valutatori che si occupano di valutare mentre gli investimenti vengono effettuati in questi tipi di energie sono ben formati e riescono a valutare bene sia se l'investimento è effettivamente rivolto diciamo alle fonti rinnovabili sia se ha una redditività effettiva in maniera tale da essere trasparenti anche con i clienti grazie mille Alessandro adesso andiamo a banca noi salve noi siamo una banca che non promette grandi guadagni infatti noi come dire ci attestiamo su sui due euro che come avete visto ma perché noi abbiamo scelto di investire nella coesione sociale noi investiamo nei micro nella microfinanza nei progetti di microcredito e quindi noi cerchiamo di stare a fianco ai meno fortunati Benissimo grazie Giancarlo credito sociale chiudiamo con credito sociale noi finanziamo cooperative sociali di vario tipo in in tutti i campi ma cooperative e sociali grazie Giuditta e adesso quindi le famiglie scelgono sulla base di quello che hanno ascoltato dove investire avete già valutato quindi vedo che Mario famiglia Rossi è pronto via bene scegliamo di investire per questo turno sulla tassa lavoro ok poi famiglia verdi eccomi qua noi investiamo in banca noi famiglia Brown allora pentita degli ultimi due turni ma orgogliosa del primo rimetti i soldi nella cassa del lavoro cassa del lavoro ok famiglia blu cassa del lavoro famiglia gialli cassa del lavoro famiglia viola no non c'è il violo sbagliato famiglia bianchi banca invest banca invest famiglia arancio questo turno investiamo su banca noi banca noi e famiglia rosa banca noi banca noi bene vediamo adesso cosa è successo sulla base dei vostri investimenti ai punti qualità della vita della comunità della comunità brasilia abbiamo guadagnato 20 punti qualità della vita quindi la vita a brasilia sta migliorando l'aria è meno inquinata e si iniziano ad utilizzare fonti di energie rinnovabili gli ospedali funzionano un po' meglio le scuole lo stesso e stiamo tutti un pochino meglio chiudiamo con il quinto turno le banche se vogliono possono dare ulteriori informazioni se lo ritengono opportuno quindi le banche che vogliono intervenire lo fanno liberamente senza essere chiamati se vogliono fare un ulteriore spot pubblicitario alla loro banca aprono il microfono e lo fanno lo faccio io lo spot al credito sociale dicendo che attraverso l'investimento nel credito sociale i risparmi aiuteranno imprese impegnate nell'interesse generale della comunità piccole grandi comunità attraverso la gestione di servizi sociosanitari educativi oppure anche ad esempio nell'agricoltura attraverso l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate grazie grazie giuditta credito sociale qualche altra banca vuole intervenire io un appello a un investimento per rendere il nostro mondo più sostenibile lo faccio come avete visto il guadagno di chi investe in International Bank che appunto si colloca nella finanza sostenibile è sicuramente un investimento che rende appunto cerchiamo di agire guidati dagli obiettivi dell'agenda 20 e 30 ovviamente non tutti i 17 alcuni stiamo piantando alberi per ricostituire la foresta mazzonica che qualcuno ha improvvidamente lasciato libera la demolizione e siamo una banca che cerca di investire un po' al passo coi tempi anche in energie non certe nucleare gas serve nella transizione energetica e quindi credo che i vostri sforzi le vostre fatiche investendo da noi verranno ampiamente ripiegati garantendo un futuro ai nostri figli grazie grazie international bank si è prenotata banca a noi devo accendere il microfono Giancarlo chiedo scusa ma noi crediamo che che un intervento a favore della povertà e di chi è marginato è importante il denaro dei nostri clienti viene investito per concedere fiducia finanziaria ai meno fortunati e anche alle piccole imprese per far crescere ripeto la coesione sociale noi abbiamo l'ardire di pensare che il futuro passa anche attraverso scelte verso un uso del denaro più consapevole e più soprattutto non solo verso se stessi ma anche verso gli altri poi il nostro motto è che l'interesse più alto è quello di tutti bene grazie banca a noi adesso abbiamo bank invest e poi c'è anche punto risparmio che ha chiesto di intervenire vai Ruggero bank invest noi siamo una banca che ambisce a fare una sola cosa e cioè la banca lasciamo come sistema bancario per permettere alle aziende di continuare a poter dare lavoro crescita eccetera e soprattutto di garantire investimenti alle famiglie che siano solidi che non siano volatili che non si basino su idee fantasie speranze di fare chissà quali guadagni mostruosi o di cambiare il mondo noi vogliamo garantirvi la possibilità di poter acquistare le scarpe per la clima comunione quando è il momento di poter poter dare e mettere dei soldi per aiutare vostra figlia o vostro figlio a costruirsi una casa investire su cose che diano guadagni assicurati su pochi ma garantiti e sul lungo termine bene grazie Banco Invest abbiamo punto risparmio e poi cassa del lavoro io ritengo che l'investimento fatto nella nostra banca sia un investimento per la sicurezza delle persone ma del nostro paese voi avete ben chiaro che il settore armiero non è il settore che uccide l'avversario ma è un settore che investe primariamente in ricerca in nuova tecnologia in tutti quegli strumenti che servono per elevare la qualità della vita e che servono per alimentare anche le nostre esportazioni all'estero con cui avere poi le risorse per poter far funzionare bene il nostro Stato una caduta per carenza di investimenti in questo nostro settore comporterebbe di conseguenza un aumento delle risorse di radicare all'acquisto delle armi da altri paesi un impoverimento industriale e tecnologico del nostro paese e quindi una caduta complessiva della qualità della vita per mancanza di risorse e mancanza di prospettiva di lavoro grazie punto risparmio cassa del lavoro e poi diamo la parola alle famiglie Sì avevo bisogno di puntualizzare un paio di cose la nostra banca investe in fonti rinnovabili cioè significa che investiamo il vostro denaro comunque in fonti dove lo sfruttamento non le impoverisce sono risorse naturali che non vengono intaccate diciamo dal nostro utilizzo come l'aria l'acqua e la luce del sole ed è importante anche per noi questo tipo di investimento perché mantiene viva la nostra vocazione che è quella comunque di interessarsi diciamo del mondo del lavoro perché questo questo tipo diciamo di investimento permette lo sviluppo di tecnologie e di un'industria che offrirà sicuramente nel futuro tantissimi posti di lavoro ai giovani e anche a persone meno giovani perché è un diciamo un settore in forte crescita ok grazie cassa del lavoro ripartiamo con l'ultimo turno che per l'altro gruppo ha già finito quindi andiamo via veloci famiglia rossi benissimo allora accolgo l'appello della signora giuditta della banchiera giuditta e torno al credito sociale che era stata la mia prima decisione ok famiglia verdi pronto pronto famiglia verdi microfono spento eccomi famiglia verdi ecco qua di nuovo al credito sociale ok famiglia brown credito sociale per lo spot del banchiere giuditta famiglia blu cassa del lavoro famiglia gialli cassa del lavoro famiglia bianchi cassa del lavoro famiglia arancio rimango su banca noi ok e famiglia rosa cassa del lavoro cassa del lavoro andiamo a vedere l'ultimo turno cosa è successo ai nostri punti qualità della vita avrete immaginato immaginerete sicuramente ormai avete capito il gioco e il trucco del gioco e quindi i punti sono cresciuti siamo a 229 non si è mai vista questa cosa abbiamo superato alla grande i 200 punti stiamo proprio bene una bella sensazione stiamo bene ok allora adesso rientriamo nel gruppo insieme agli altri per fare tutte le considerazioni e anche un po' di valutazioni del gioco però vi dico bravi e anche vi chiedo se avete voglia se ve le eravate scritte gli spottoni delle banche se me li mandate che lì magari provo a usarli anche coi ragazzi a scuola perché una delle difficoltà a volte coi ragazzi è quella di riuscire a fargli fare in poco tempo lo spot della loro banca allora magari se li aiutiamo a volte può diventare anche più divertente per il resto della classe quindi grazie allora vediamo se riesco a farli tornare di qua cosa dite devo andare su altro sessioni secondarie chiudi tutte le sessioni 58 secondi ecco fra un minuto tornano tra noi ok allora eccoli che stanno già tornando bene come è andata Lorenzo molto bene siamo riusciti a morire noi siamo arrivati a 229 punti noi purtroppo no voi no ti è voluto un attimo per ingranare abbiamo finito mi sembra 169 la vedi poteva andare peggio però c'erano delle famiglie che facevano il freerider così a brasilia la qualità della vita è molto alta quindi chi volete venire a vivere a brasilia volentieri rimandiamo i gialli esatto oppure andiamo via tutti lasciamo i gialli là è bravissimo a me sinceramente sembrava i gialli hanno allora e allora vi diciamo io e Lorenzo un po' quello che facciamo in classe e coi ragazzi in questo momento del gioco e quindi una volta che i ragazzi hanno capito il il trucco e quindi hanno capito un po' come funziona il gioco e iniziano ad investire nelle banche come cassa del lavoro banca noi credito sociale vedono che i punti qualità della vita riprendono a salire ecco calcolate che solitamente in gruppo classe si lavora su 100 punti e questi 100 punti i primi due turni ne perdono di solito almeno 70 se non 80 tutti in un colpo cioè non in un colpo in due turni li perdono e e quindi vedono la morte vicino perché quello che gli viene detto è se arriviamo a zero muoriamo tutti e questa cosa per fortuna i ragazzi non piace quindi cercano di riattivarsi e di di capire qual è il trucco del gioco e iniziano ad investire nelle banche che gli danno che fanno risalire i punti qualità della vita e quindi spesso non facciamo tutti i dieci turni perché il tempo che ci dà la scuola per questi giochi è solitamente di un paio d'ore e e quindi preferiamo giocare un'oretta e un'oretta poi parlare con con i ragazzi di cosa parliamo con loro e per prima cosa facciamo dire a tutte le banche che banca erano e in cosa investivano perché soprattutto nel gioco in presenza non è così chiaro voi siete stati molto bravi disciplinati e ordinati nel gioco almeno il gruppo nostro però spesso i ragazzi insomma fanno un po' di confusione non è tutto così chiaro quindi gli facciamo raccontare la banca cosa faceva dove investiva e ad ogni banca per ogni banca interveniamo noi e spieghiamo alcuni alcuni concetti e quindi andiamo a dire che quali sono che cosa significano alcune parole introduciamo alcuni alcuni concetti chiave un'altra cosa che diciamo ai ragazzi è che il gioco prevede delle caratteristiche molto stereotipate delle banche quindi le banche hanno delle caratteristiche rigide cosa che poi nella realtà non è sempre così però questo è funzionale al gioco e quindi gli spieghiamo cosa sono i paradisi fiscali cosa sono i fondi speculativi senza entrare nei particolari e questo dipende tantissimo anche dall'età dei ragazzi e dal tipo di scuola in cui andiamo perché se sono istituti magari tecnici che hanno affrontato alcuni argomenti riescono anche a interagire e a farti le domande se sono scuole i licei ad esempio fanno più fatica e non riescono non capiscono alcuni concetti nelle classi prime sia io che Lorenzo ci siamo trovati a dover spiegare cos'è una banca la banca cosa fa la banca raccoglie i soldi e investe i soldi dove investe i soldi però è giusto che sia così insomma in una prima di un liceo scientifico di ragazzi 14 anni va bene non è assolutamente un problema però capite che passano anche messaggi diversi anche con approfondimenti differenti però bisogna un po' adattarsi alla situazione e poi entriamo anche nello specifico del settore delle energie rinnovabili del microcredito gli spieghiamo bene che cosa significa microcredito facciamo un po' di esempi e anche delle cooperative sociali per la mia esperienza parlo la mia esperienza di questi anni per dire delle cooperative sociali spesso non sanno cosa siano e cosa fanno e il ruolo che hanno e quindi lì magari anche si perde tra virgolette un po' più di tempo per raccontare per anche raccontare un po' di esperienze di ricondurli anche alla loro vita ai ragazzi di 14 anni gli ho detto magari il vostro asilo nido era gestito da una cooperativa sociale e voi non lo sapevate perché introduco tutto il tema dei servizi e dei servizi alla persona e gli spiego le varie differenze Lorenzo sì oddio cosa aggiungere ovviamente come ha detto Daniela in base alla classe in cui sono reagiscono più o meno cioè sanno più o meno determinate cose di solito sanno sempre molto bene le energie rinnovabili è l'unico punto in cui sono in cui hanno una conoscenza abbastanza per quanto possibile approfondita e comunque cerchiamo di presentare quando presentiamo ciascuno dei punti o quantomeno io cerco di presentare sia gli aspetti positivi che gli aspetti negativi per cui loro hanno per esempio una conoscenza delle energie rinnovabili che è totalmente positiva e cerchiamo anche di spiegarli per esempio le batterie il litio i dettagli pesanti eccetera anche perché abbiano un po' un'idea più completa delle cose a questo punto però cerchiamo anche di spiegargli e passiamo come dire al punto successivo che ovviamente non è così facile nella realtà ottenere le informazioni e che non ci sono delle banche che fanno solo una determinata cosa per cui da una parte iniziamo a presentargli degli strumenti che possono usare per raccogliere queste informazioni ce ne sono un paio che uno che sono le banche armate che usiamo sempre e c'è un altro che l'ho scoperto da poco è un sito con un account Instagram per cui ai ragazzi è sempre molto lo recepiscono molto bene che fa valutazioni dell'impatto ambientale delle banche eccetera per cui da una parte gli diamo dei modi per raccogliere delle informazioni sulle banche vere e dall'altra gli invitiamo che è un po' il fulcro di tutto a utilizzarli a raccogliere queste informazioni e a fare poi delle scelte in base alle informazioni che raccolgono nella vita reale e non semplicemente aprire un conto nella banca più vicina a casa ecco su questo appunto avrete visto il gioco cerca di simulare la realtà rispetto proprio al tema delle informazioni quindi la banca all'inizio non dava le informazioni tutte le banche erano uguali solo il nome e uno sceglie a caso e spesso nella realtà è così quindi si sceglie a caso la banca sotto casa o la banca che mi è stata consigliata o la banca che avevano i miei genitori e poi pian pianino le informazioni arrivano soprattutto se magari impariamo noi a chiedere e quindi l'obiettivo del gioco è proprio quello di stimolare i ragazzi al senso critico e a raccogliere informazioni e a fare delle scelte in maniera più consapevole e il top l'ho provato solo una volta a Bologna un paio d'anni fa e avere almeno due incontri con i ragazzi sarebbe il top perché una volta giochi e una volta torni e loro hanno rielaborato e poi discutere con loro in un incontro di due ore non è facile e ultimamente cerchiamo di lavorare molto con gli insegnanti prima cioè di fare in modo che diventi un'attività all'interno di una programmazione più ampia e quindi il nostro intervento è uno stimolo ma che poi gli insegnanti devono raccogliere e utilizzare per per approfondire con i ragazzi Certo Mi permetto di condividere la mia esperienza essendo io un'insegnante insegnante poi di economia aziendale e conoscendo il sistema bancatica dall'inizio sono sicuramente agevolata allora un po' di anni fa in una mia classe quarta economico ho fatto il gioco delle banche e l'anno successivo in quella che da noi viene chiamata la giornata di indirizzo quindi che coinvolge dalla prima alla quinta dell'economico abbiamo fatto gestire il gioco alla quarta che era diventata la quinta e tutti gli altri partecipare è stata un'esperienza fantastica alla fine del gioco è venuto Luigi a spiegare i concetti che voi spiegate quindi derivati piuttosto che ed è stata veramente un'esperienza eccezionale poi non l'abbiamo più fatta perché aspettavamo il ricambio generazionale delle classi quindi adesso magari per il prossimo anno la ripianifichiamo però veramente è stata una bellissima esperienza di grande condivisione non ci vuole se chiara l'involgimento degli insegnanti rispondo un attimo a un chat Gabriele parlava io ho utilizzato uno degli imprevisti che era contro International Bank allora per chi non ha mai giocato per c'è un kit proprio del gioco e il kit prevede un kit del conduttore del gioco che non vedete perché sono messa con sto video dietro comunque il kit del conduttore del gioco spiega tutte le istruzioni e c'è una lista di imprevisti e si sceglie quale imprevisto utilizzare ok grazie ok e per dire abbiamo fatto degli interventi per un progetto all'interno del World Social Agenda e si lavorava sull'obiettivo del millennio legato alla pace il tema della pace e quindi il tema banche armate disarmo eccetera c'è un imprevisto sulle banche armate e gliel'abbiamo buttato dentro ecco quindi a seconda del contesto anche ti scegli l'imprevisto e lo utilizzi ce ne sono una quindicina e e scegli l'imprevisto che ti piace di più o che meglio ci sta in quel contesto ok qualcun altro che vuole intervenire vedo Patrizia Mosca che scriveva Gabriele esci dal ruolo parla già di avvocati vai Simona vai Simona allora ho notato che nella gestione del gioco che abbiamo fatto si dà più peso ai punti accumulati punti qualità della vita e e quindi a come possono variare nel gioco però c'è anche la sezione che viene anche sviluppata nel cartellone che è collegato al gioco che è quella di cosa loro guadagnano perché per molti il fatto di vedere progressivamente l'aumento del loro capitale iniziale e di vedere dall'altra parte i punti qualità della vita comunque sono due aspetti che devono fanno fatica a mettere insieme quindi è per quello che molto l'idea della banca che hanno loro è di ottenere il massimo rendimento e quindi nel ragionamento si concentrano su quell'aspetto e in questo caso nell'esercizio che abbiamo fatto insieme questa cosa era meno evidente volutamente oppure perché non avevamo tempo di affrontare o perché siamo più evoluti rispetto ai ragazzi che tendenzialmente si orientano su quell'aspetto in realtà avendo non tanto tempo a disposizione si è un po' semplificato online soprattutto perché appunto la versione online deve essere più semplificata al massimo perché altrimenti diventa faticoso per i ragazzi proprio seguire quindi sì è vero che quell'aspetto viene meno trattato sì non so se Lorenzo vuole aggiungere qualcosa che ha parecchia esperienza qualcuno chiede di affiancarci per incontri online con una scuola sì volentieri ultimamente le scuole stanno tornando un po' alla presenza per fortuna devo dire la verità e quindi ci sono richieste in presenza in presenza è più bello per tutti è più bello per noi perché entriamo in relazione con i ragazzi ed è energia pura e più bello anche per loro perché si divertono un po' di più poi i ragazzi sono abituati abbiamo visto che per dire quando i ragazzi sono metà in classe metà online chi fa la banca a distanza capisce subito tutta la dinamica del gioco e sono velocissimi loro a capirlo e poi come si può avere il kit allora il kit non ne sono rimasti molti però stiamo facendo anche un po' di per il momento fotocopie per poterlo utilizzare avete visto che abbiamo creato questo file di Excel che è una versione voluta di quello iniziale che era tutto cartaccio dove si scriveva nei cartelloni proprio appunto come diceva Simona i punteggi un po' perché appunto non ci sono kit a sufficienza un po' per anche agevolare il lavoro in classe abbiamo creato anche questo file quindi per chi ha bisogno del materiale può sentire il responsabile culturale di area quindi me per il nord est Simona per il sud e via dicendo sapete chi sono i vostri riferimenti e ve lo forniamo ecco in qualche modo ve lo forniamo il gioco il gioco è solo per le scuole superiori io chiedo anche a Simona rispetto a questo secondo me sì superiori e adulti scuole medie io non l'ho mai provato sinceramente Daniela scusami neanche io l'ho mai provato per le medie però so che c'era stata e che era stata fatta una versione l'aveva condivisa con me Jacopo della filiale di Bologna che ci aveva lavorato con Lino Sbraccia loro l'avevano testata sulle classi delle medie non so io farei un po' fatica sinceramente con i ragazzi delle medie non so chi ha più esperienza anche e personalmente per quanto riguarda la mia esperienza Sino ad ora il gioco delle banche l'abbiamo sempre inserito cioè non abbiamo mai fatto un incontro solo cioè l'abbiamo sempre inserito in un percorso un po' più ampio e di solito per esempio ultimamente stiamo facendo questa attività è un intervento da due incontri il primo incontro è di un'ora e il secondo invece è da due ore nel secondo facciamo il gioco delle banche il primo incontro serve un po' per conoscere la classe capire qual è il livello e dare delle informazioni di base quindi cosa sono cosa fanno le banche capire anche loro quanto ne sanno perché cioè tu dicevi prima che di solito lo spiegate ai ragazzi della prima superiore in realtà a me capita anche alle quarte e alle quinte che di chiedere cosa sono cosa fanno e cioè non hanno ben chiaro o comunque hanno chiare alcune parti non la complessità quindi il primo incontro mi serve un po' per tracciare il contesto in cui poi si andrà a giocare è un'altra cosa che io di solito faccio quando faccio il gioco e a un certo punto quando i ragazzi continuano a perdere e iniziano a chiedere ma perché ma perché sta succedendo questo io di solito gli do la possibilità prima di iniziare il turno successivo di solito lo faccio intorno al quinto turno gli do due minuti per chiacchierare tra di loro cioè le famiglie si riuniscono e gli dico adesso vi do un po' di tempo per per fare una strategia per salvarvi quindi cioè mettete insieme le informazioni che avete raccolto ragionateci un attimo e cercate di elaborare una strategia per portare i suoi punti qualità vita quindi lì ragazzi confrontandosi magari intuiscono qual è il meccanismo fanno un'ultima giocata con la giocata successiva i punti risalgono a quel punto si chiude il gioco e si discute cos'è successo questo è divertente insomma grazie Irene Irene Palmisano lavora in fondazione finanza etica e si occupa proprio di educazione finanziaria tra le mille altre cose che fa però fa anche questo allora ci sono un po' di interventi in chat alcuni appunto dicono che hanno giocato anche con gli adulti e dipende diceva Gabriele dal gruppo con cui si va a lavorare quindi se sono addetti ai lavori è un po' scontato il risultato mentre con ad esempio non addetti ai lavori del consumo critico funziona e forse andrebbe provato sempre di più anche con gli anziani che sono quelli che hanno più risparmi da investire giusto allora c'è Ruggero se posso si vai Lorenzo noi abbiamo fatto soprattutto a Ferrara alcune volte con gli adulti funziona ovviamente come avete detto quando lo fai con delle persone che sanno hanno un'idea che sugli investimenti etici funziona fin troppo bene però secondo me almeno per le mie esperienze personali è un po' limitante con gli adulti nel senso che da un certo punto si concentrano molto sul fatto che è semplificato che nella realtà non è così eccetera eccetera e questo è chiaro che è semplificato è impossibile farne uno uguale alla realtà però come dire si perde un po' la parte di gioco che invece funziona molto bene con i ragazzi si perde un po' questa parte e ha un po' meno impatto sugli adulti rispetto che ai ragazzi dopodiché funzionare funziona però c'è questa problematica che emerge anche in certi casi abbastanza diciamo che il conduttore dovrebbe essere affiancato da un consulente finanziario perché vanno molto nello specifico con delle domande però però noi l'abbiamo fatto in una situazione periferica a Roma ed è stato interessante con gli adulti proprio di educazione finanziaria è diventata poi un'occasione di riflessione proprio sullo strumento banca quindi probabilmente bisogna saper leggere bene il contesto e quindi capire ecco io volevo solo dire questo che l'abbiamo fatto in una situazione finanziaria in una parrocchia di Torpignattara che è un po' anche mista ed era interesse è stato avevano meno esperienza vera di rapporti con la banca se non con i debiti ecco grazie giuditta adesso do subito la parola a Ruggero mi hanno ricordato che c'è anche effettivamente una versione in pdf ce l'ho anch'io quindi volendo per chi vuole posso anche girare i materiali pdf poi uno un po' si stampa in qualche modo e magari vi facciamo arrivare più che altro le banconote perché si gioca in presenza è bello avere le banconote e di queste ce ne sono un po' i ragazzi piace giocare con le banconote vai Ruggero io ho ovviamente l'enorme limite di non averlo mai giocato prima cioè questa sarà proprio la mia primissima e allora dici anche come è andata così ci dai un feedback io diciamo che la mia diciamo la mia esperienza io sono un gamer nel senso io ho iniziato 35 anni fa presentando i giochi da tavolo nei pub quindi la mia la mia vita è sempre stata intorno ai giochi da tavolo e ho giocato molto con i ragazzi su tematiche come droga violenza e cose di questo genere ovviamente la semplificazione c'è è nelle cose perché l'effetto che io investo lì e in automatico si abbassa la qualità della vita è una semplificazione necessaria perché ovviamente invece il problema è che gli effetti sono sul medio periodo e quindi l'errore che faccio adesso mi si sbatte in faccia fra 5-10 anni ed è difficile far capire alla persona che guarda questo è dovuto all'errore che ho fatto 5 anni fa per cui da questo punto di vista la semplificazione è necessaria meno ho trovato meno diciamo un po' barare ecco la semplificazione rispetto al non aver presentato questa volta e mi rincuore invece che a scuola viene fatto il fatto che si vede invece come salgono i soldi in tasca le persone perché il fatto che Gabriele desse 10 cioè 10 quella là ma tutti danno i soldi a quello che da uno e non lo so perché quello che da 10 da 10 io un turno su quello da 10 me lo faccio poi gli altri me lo faccio su quello che da 2 perché c'è il problema appunto da una parte di far capire che nell'uso responsabile del denaro vuol dire anche che ne so il fatto che magari non ti fai l'ultimo iPhone perché non ha senso spendere 1000 euro in un prodotto che fra un anno ne vale meno della metà e che però appunto se tu investi con Gabriele l'iPhone te lo compri se investi su Banca Noi l'iPhone probabilmente non te lo compri quindi diciamo coinvolge i ragazzi su una presa di coscienza che non è soltanto capisco qual è il trucco e quindi faccio punti perché altrimenti il rischio che vedo però appunto da persona che non ha che non ha sperimentato questo gioco con i ragazzi quindi con tutto il limite del caso è che bello ho rotto il gioco ho capito come si vince ma rimane all'interno del gioco poi si apriamo il dibattito parliamo delle cose ti passo delle informazioni e spero che qualcuna di queste informazioni di manga però il gioco diventa più la scusa per parlarti dopo che un elemento poi educativo in sé che ti costringe a confrontarti su delle cose ecco i giochi in classe comunque i ragazzi questa dinamica la vivono a pieno cioè i ragazzi ci sono quelli che non mollano fino alla fine perché vogliono l'iPhone e quindi a loro interesse guadagnare tanto e non mollano fino all'ultimo e la classe si mette contro di loro quindi quando a un certo punto la classe capisce e quindi vuole investire dove aumentano poi i punti qualità della vita ci sono sempre quelli che non mollano e quindi mi preoccupa la semplificazione della versione online che se dovesse rimanere si perde invece quel pezzo che secondo me è fondamentale cioè il fatto che poi la classe crea un dibattito tra chi vuole la sostenibilità e chi vuole l'iPhone che sia poi la parte più educativa del tutto è uno degli aspetti ecco nel senso che comunque i messaggi sono tanti che arrivano è logico che online si semplifica tantissimo questo infatti sia io che Lorenzo quando possiamo andiamo in presenza tutti in presenza però ecco abbiamo risposto ad un anche posso aggiungere una cosa a Ruggero sì certo ma sai io mi sono meravigliato posto che tu sei bravissimo a vendere Fuffa come l'altra banca che non mi ricordo veri professionisti veri professionisti io avrei investito in voi non in me è un facciato però io mi sono meravigliato appunto che qualcuno abbia investito nella mia banca perché in International Bank perché veramente in questo giro qua in questo contesto qua perché è scattato credo quella molla che dice portiamo a casa intanto 10 euro e poi so che loro sono dei furbi e poi il giro dopo quindi questo diventa molto interessante fra i ragazzi anche fra gli adulti lì c'è il conduttore che ha detto anche adesso proviamo a vedere cosa succede sbordando su altre banche è il conduttore che ha forzato l'investimento sulle banche e sozzone è certo quando uno dice ho la sede nelle caiman ok è finita no e invece quei ragazzi diventa interessante uno perché forse magari tutti non sanno cosa sono le caiman e quindi i paradigmi fiscali eccetera due perché oh l'iPhone nuovo comunque mi fa gola con Bibo Arnaldo Cecchini di Venezia abbiamo fatto un gioco analogo però un po' più complesso giustamente sulla gestione delle risorse a livello mondiale dove la concertazione è indispensabile perché o ci capiamo un po' la politica dei pascoli comuni o ci capiamo tutti quanti oppure sappiamo comunque che finiremo male se non ci se non ci capiamo e se non cambiamo linea in questo caso vabbè la come dire la la versione online sconta questo fatto qui che non c'è la possibilità di incontrarsi mi dovrebbe avere la possibilità di andare in un'altra stanza a a mettersi a a parlarsi un pochettino però qui qui era facile era ovvio che finiva finiva così con i ragazzi o con non addetti ai lavori del consumo critico come dicevo prima non è così scontato e serve proprio la concertazione comunque lo scambio il confronto serve per fare qualche ragionamento prima di fare il debriefing grazie Gabriele c'è Giorgio Rossi che mi ha scritto se puoi intervenire leggo anche il fatto c'è scritto di bisognerebbe far perdere tutto con gli imprevisti questo secondo me potrebbe essere una cosa da pensare di fargli perdere tutto con gli imprevisti vai Giorgio è proprio sul discorso degli imprevisti prima Ruggero mi parlava parlavi te che gli effetti negativi poi si vedono nel tempo quindi secondo me io userei gli imprevisti proprio come eventi negativi di scelte fatte 5 10 4 anni fa che paghiamo in questo momento ecco il ruolo degli imprevisti potrebbe essere questo secondo me quindi aiutarli a leggere quello che è avvenuto prima con il risultato negativo che sta pagando adesso interessante anche questo ultimo famiglia arancio e banchi invest Irene e poi chiudiamo con Irene famiglia arancio che non non so chi sia Daniele Daniele Benzon perché ho cambiato il nome ovviamente no volevo capire meglio appunto il discorso dei punti non tanto quelli della vita ma proprio del guadagno cioè la International Bank darebbe 10 punti a ogni mano e quindi credito sociale ne darebbe uno a ogni mano o in realtà sono variabili sempre fissi sì ecco no nel senso che da un lato secondo me sarebbe più bello prevedere una tabella e pensando che le 10 mani possano essere 10 anni di vita quindi prevedere a priori ovviamente e verrà mostrato solo alla fine del gioco che nella vita di una banca ovviamente non è che una banca dia sempre 10 e l'altra dia sempre 1 ma nei vari anni cambia nel tempo quindi effettivamente capire che prendere 10 magari un anno 2 ma l'anno dopo magari c'è una crisi disastrosa e ne perdi 30 il fatto che uno investa sempre solo in international bank non è detto che alla fine poi venga a casa con 100 punti perché ne guadagna 10 per volta ma può essere che in realtà alla fine li perda e mentre magari se uno punta di più o investe su cassa del lavoro che ne guadagna 3 all'anno ma ne guadagna 3 all'anno per sempre quindi alla fine ne avrà 30 quindi riuscire a far mostrare poi alla fine il tabellone che era già stato previsto quindi chiaramente non che ci si inventa al momento giusto per far vincere o far perdere qualcuno ma perché nella vita effettivamente l'andamento della banca non è così lineare e quindi effettivamente uno continua ad investire su una banca che alla fine magari perde tutto e ne abbiamo di esempi voglio dire che qualcuno è andato a casa con lo scatolone in mano e hanno chiuso le banche quindi voglio dire non è che sia così anche assurdo e imprevedibile anzi oltre che magari far intervenire qualche imprevisto in più appunto per fare delle situazioni strane o cose del genere ecco vedrei queste 10 puntate come 10 anni della vita di una banca di una famiglia e quindi effettivamente magari anche l'investimento che una persona fa e quindi le famiglie che fanno riescono a calarlo ancora meglio effettivamente nella vita reale sì anche questo secondo me è un suggerimento interessante vai Irene poi chiudiamo sì no volevo dire per quanto riguarda gli imprevisti io personalmente li introduco sempre molto di rado dipende molto dal livello della classe perché fino ad ora mi è capito come dire il gioco è complesso sia nel dare le regole nel fare ingranare come dire nei primi turni i ragazzi far capire come si devono svolgere eccetera e ci sono tanti termini tanti concetti che loro devono come dire apprendere o comunque intuire e che poi su cui poi si tornerà nella parte finale dell'intervento quindi come dire spesso io non l'inserisco cioè se vedo che la classe è abbastanza a un livello elevato allora magari inserisco un imprevisto anche abbastanza semplice da comprendere da spiegare se no evito perché cioè il gioco già di per sé di base offre tanti spunti per come dire approfondire tanti temi e tanti ambiti quindi ecco volevo dire io personalmente li uso poco perché il gioco insomma offre tanti aspetti di complessità e quindi ecco era semplicemente dare la mia testimonianza su questo aspetto qui bene grazie Irene allora grazie a tutti anche per le suggestioni e i commenti bello un bel momento quindi grazie della partecipazione probabilmente lo ripeteremo anche perché avevamo avuto ulteriori richieste a cui abbiamo dovuto dire di no perché non ce la facevamo a gestirvi tutti contemporaneamente grazie anche della pazienza perché comunque anche per noi per me e Lorenzo la prima volta che lavoravamo su due sale l'avete visto ecco quindi se riuscite giocate e poi mandate i vostri commenti perché appunto il gioco è in evoluzione quindi ci piace ci piace anche l'idea di renderlo più attuale se c'è la possibilità e anche di introdurre dei cambiamenti e tipo appunto il tema dei bitcoin continua a tornare in tutte le classi e va e va affrontato e spiegato e spiegato ai ragazzi quindi probabilmente dovremo inserire anche questo questo aspetto è uno strumento l'abbiamo detto va contestualizzato va capito e se lo fate con le scuole qui abbiamo insegnanti collegati vedo Fabiana davanti a me ho Fabiana però va va proprio creato un rapporto con gli insegnanti prima di tutto e quindi il progetto va va fatto con loro e perché perché poi la palla torna agli insegnanti e quindi noi siamo sicuramente uno stimolo però poi secondo me non dobbiamo cercare la perfezione del gioco ecco dobbiamo riuscire a dare tutta una serie di stimoli perché alcuni magari si spaventano anche dicono io non ce la farò mai a fare questa cosa invece andiamo proviamo ecco perché comunque anche i ragazzi si divertono a vedere noi che facciamo questo per loro ecco perché comunque siamo lì come volontari della banca che vanno a proporre il gioco e basta buona serata a tutti grazie Lorenzo e grazie anche a Simone e a Fabio che ci hanno aiutato grazie 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 a tutti